Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato a tenere amate al suo bellissimo libro, questa dovrebbe essere, dico sempre dovrebbe perché ho controllato ma ogni tanto saltano i numeri, dovrebbe essere la puntata numero 29, in ogni caso stiamo proprio all'interno del capitolo 29 che abbiamo iniziato la volta scorsa e che oggi se Dio vuole continueremo, la volta scorsa abbiamo parlato, chi ha seguito ricorderà dell'amore universale e quindi delle varie delizie che si gustano nell'amore universale cioè nell'interscambio di amore che tutti gli esseri si comunicano nella dimensione, chiamiamola così, della vita beata e abbiamo concluso la puntata scorsa parlando addirittura di gli atomi, quindi le compenetrazioni addirittura cellulari, non è la stessa cosa il livello di organismo totale del cane a un livello cellulare di quest'animale, la compenetrazione col tuo cane lo farà a un livello del suo organismo integro ma è potresti anche interpenetrarlo a un livello di atomi, ecco ma allora la felicità necessiterebbero i suoi atomi e non il cane in quanto organismo intero e abbiamo proprio concluso, rendendoci conto che anche gli atomi si possono interpenetrare e quindi aveva concluso per un amato con l'esempio di una goccia d'acqua e dice che potremo rendere felice una goccia d'acqua e quando Riccardo dice ma come faccio a rendere felice una goccia d'acqua le ha spiegato e abbiamo chiuso così quindi gli atomi di quella molecola brilleranno intensamente di amore, brilleranno di gioia mentre noi assaporeremo i doni singolari e irripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi ecco che vedete che in questa dimensione veniamo a sapere che anche la chimica oltre che la fisica ha un ruolo non indifferente e non soltanto in questo mondo ma anche nell'altro, tutto quello che si è inventato nostro Signore veramente è qualcosa di impressionante se voi pensate, credo che dicevo anche la volta scorsa come adesso rimpiango di non aver a suo tempo approfondito alcune cose perché maggiori conoscenze della chimica e della fisica certamente darebbero una comprensione maggiore di questo testo, questo non c'è dubbio, 100% infatti ogni tanto scrivo qualche commento nei video di Youtube, qualche persona che capisco insomma che ci mastica un po' con la fisica, con la matematica o con la chimica, sono commenti molto belli, molto molto pertinenti perché certe conoscenze quando si scende a questi livelli, quando si sale meglio a questi livelli certamente aiutano a comprendere meglio allora, assaporeremo i doni singolari e ripetibili che il Signore ha concesso appunto a quegli atomi una volta scorsa abbiamo messo punto Riccardo dice esploderanno di gioia, no? e forse anche noi insieme e Teneramata risponde esploderanno di giubilo ma non si annienteranno perché ciò che il nostro Dio ha creato nessuno può ridurlo al nulla l'annientamento attenzione bene a quello che l'annientamento di qualunque essere è cosa impossibile perché nessuno può annientare un altro essere e Dio non lo farà mai l'annientamento di un essere perché Dio non rinnega a se stesso se ha dato l'essere a qualcosa o a qualcuno punto molte persone un pochino grossolane superficiali dice ma perché Dio non ha distrutto il demonio distrutto il demonio ma Dio questo non lo farà mai non lo farà mai perché l'essere del demonio capite questi sono discorsi un pochino delicati l'essere del demonio quindi in quanto essere in quanto creato da Dio i trascendentali dell'essere di cui abbiamo già parlato diverse volte ogni ente in quanto ente è uno è vero è buono è pure bello ed è eterno ora il demonio adesso è un mostro un mostro non è non è che è un mostro è diventato un mostro dopo quello che ha fatto anche le anime dannate diventeranno dei mostri ma ci diventano dei mostri non sono dei mostri ma è molto differente quindi gli esseri non si ammientano ecco perché l'inferno l'inferno è eterno per forza che è eterno se uno sta in uno stato di volontà depravata irreformabile quindi depravata è e depravata resterà perché non può cambiare orizzonte dal momento che gli esseri vivono senza fine una volta che ci sono è per forza che è l'inferno eterno perché in quei soggetti che hanno la volontà depravata la volontà rimarrà sempre depravata ma siccome non finiranno mai di esistere è l'inferno eterno finito? non è tanto difficile se uno si sintonizza sulle giuste coordinate no? dice ma Dio può permettere che è buono che l'inferno sia eterno Dio da parte sua non c'è assolutamente niente di cui rimproverarsi Dio ha dato l'essere perfetto bello buono vero a quell'ente particolare gli ha dato tutti gli aiuti possibili immaginabili senza mai forzare la sua libertà perché potesse avere una vita felicissima sia quella del tempo della prova che quello del tempo del post prova non ha voluto ma questa è una cosa che che non è più un suo problema no? non è un suo problema è un nostro problema poi voglia bestemmiare si bestemmi pure come Turchi o come altro ma il problema siamo sempre noi non è mai l'altissimo proseguo la lettura esploderanno di giubile ma non si annetteranno perché ciò che il nostro Dio ha creato nessuno può ridurlo a nulla d'altronde è molto piacevole situarsi dentro un'esplosione una grande esplosione nel cielo equivale ad un'immensa manifestazione di gioia e senza nessun pericolo qualcosa del genere si vede anche nella vita mortale i botti e gli spari dell'ultima notte dell'anno sono in realtà un'espressione dell'istinto della gloria anche se un po' deformata ora io preferisco a non fare troppi esempi perché per il pericolo che siano fraintesi non li faccio ne ha fatto uno adesso tenere amata questo ci consente di vedere anche alcune cose che non funzionano da parte di noi mortali però con con una prospettiva allargata cioè non funzionano ma nel loro non funzionare sono comunque espressione di una sorta di istinto che l'anima ha di ciò che l'aspetta nella gloria soltanto che qui giù è deformato ed è peccaminoso quindi si affretta subito a dire perché ah tenere amata ha detto se possono fare i botti no non ha detto se possono fare i botti ha detto che in questa manifestazione un po' particolare e certamente non raccomandabile c'è però quest'istinto della gloria futura perché dice lei in paradiso ah le esplosioni sono delle cose gradevolissime grandi manifestazioni di gioia ma non pericolose qui invece essendo pericolose perché ti salta una mano perché hai lanciato un petardo a capodanno insomma non mi sembra una cosa un rischio che valga la pena correre quindi qui è meglio starne alla larga vedete proseguo la lettura no con quanta ragione fisico chimica e celeste nostro signore Gesù Cristo disse la domenica delle palme nel suo ingresso trionfare in Gerusalemme questo lo vedremo tra poco tra un paio di domeniche vi dico che se questi tacessero si riferiva alla folla dei piccoli che lo asannava griderebbero le pietre chi se lo andava a immaginare attenzione che Gesù anche se ho visto duemila anni fa questo non c'è bisogno di dirlo spero a meno che non ci sia qualche eretico perché c'è qualcuno che dice che Gesù nella sua umanità era però soggetto ai tempi io ho sentito dire queste corbellerie con le orecchie mie voi sapete che gli esegeti eretico modernisti hanno praticamente distrutto tutta la Bibbia una delle cose che si sono inventati è che per esempio Giona non è mai esistito ovviamente come per esempio non è esistito Abramo non è esistito lasciamo aperti che non ci prendiamo quest'oltre la catechesi della madre soltanto che durante una lezione di cristologia in un posto X ma era un'università pontificia uno studente diceva come Giona non è esistito ma Gesù ne parla due volte nei Vangeli dice che questa generazione non sarà dato altro segno che il segno di Giona sia per dire come Giona fu un segno per gli animanti di Nive perché alla sua radicazione si convertirono molto di più lo sono io dice no ma poi un'altra cosa come Giona restò tre giorni e tre notti nel ventre del pesce così il figlio dell'uomo resterà nel ventre della terra prima della sua esurrezione dice scusa se il nostro Signore Gesù Cristo lo nomina come fai a dire che non è esistito sapete la risposta no? eh no ma Gesù Cristo era figlio del suo tempo a quei tempi tutti pensavano che Giona era esistito e pensavano quindi la stessa cosa che Gesù Cristo ditemi voi se un ragionamento di questo genere è accettabile ah ma Gesù Cristo non è mica un amico pallino capite? cioè è vero che c'è un'umanità come la nostra ma quell'umanità è la persona del verbo cioè Gesù Cristo non ha fatto sfoggio ma se avesse voluto divertirsi un po' cioè lasciare tutti a bocca aperta gliel'aveva proprio proposto al diavolo da buttare dal tempio e facciamo un po' di show fagli vedere chi sei non l'ha mai fatto perché non è proprio di Dio fare questi inutili e gratuiti sfoggi di potenza ma guardate che se Dio avesse se Gesù avesse voluto cominciava a parlare tranquillamente di fisica e di chimica in termini come li conosciamo oggi spero che nessuno dubbi di questo Gesù Cristo è la seconda persona della tantissima trinità ha fatto l'universo l'ha fatte Lui tutte quante le sostanze qui magari non ci abbiamo mai pensato che la frase di Gesù non era da intendere semplicemente in maniera come dire religiosi perbolica se questi taceranno guideranno le pietre no no Gesù dice faceva riferimento aveva ragioni fisico-chimiche celesti per dire questo ma non lo spiega infatti sarebbe bastato che i raggruppamenti di atomi nel loro livello esistenziale in quanto pietre spiega a modo loro il giubilo con le loro proprie voci luce calore suono esplosione fusione e fissione chiaro? dice Riccardo bene l'amata ma come potrò entrare in una molecola d'acqua se si trattasse di un mammifero o di un arbusto potrebbe essere ma ti rifiuti di crederlo dice teneramata scusate perché troppo questo è tempo di allergia poi ovviamente non c'è stato niente tutto il giorno e evidentemente comincia adesso no? questo ormai è ordinaria amministrazione vabbè ti rifiuti a crederlo perché ti senti scatolato risponde nella tua attuale statura quindi se io sono alto 1,75 cosa faccio a mettermi dentro una molecola d'acqua per interpenetrarla e le risponde ti suggestionò le dimensioni quasi invariabili del tuo attuale involucro corporale ma non sempre è stato così vedete qui già chi ha capito bene prima ancora che te ne eravate risponde dice e che problema c'è me ne vado nello spazio tempo di quando ero uno zigote e voglia interpenetarti con le molecole d'acqua o no adesso dirà sicuramente così non ho ancora letto il seguito però però già l'imbeccata che gli ha dato tu ti senti come dire imprigionato nel tuo tale involucro se capisci subito quando va a parà nessuno di noi ci ricorda com'era quando erano zigote adesso però non te lo ricordi ma lo zigote come la dottrina più comune più probabile insegna e anche se non è un dogma di fede è comunque la dottrina più comune e da ritenere come buona l'anima viene creata nel momento stesso in cui i due gameti diventano uno zigote allora te ne lavato e vi dice tanti anni fa misuravi la quinta parte di un millimetro che era il diametro della tua cellula uovo la quinta parte di un millimetro sapete quanto è piccolo il millimetro nel cielo vedrai che la statura del corpo umano glorificato può variare da infinitamente piccolo a immenso non te ne sei accorto dell'impulso dell'istinto della guerra futuro che c'è nella gioia di un bambino quando sta sui trampoli per sentirsi più alto attenzione un'altra volta l'impulso della gloria futura sarebbe che ci sarebbe da divertirsi se fossimo un pochino attenti guardati un pochino in giro intorno decodifica i comportamenti alla luce di questo non è che del loro comportamento c'è un istinto della gloria futura sono tentato di fare alcuni esempi ma non li farò è il desiderio è il desiderio incosciente e sto ragazzino della futura grandezza fisica che intravede l'anima nonostante le limitazioni del bambino qui capite come l'anima anche per esempio che l'anima cioè sono io è difficile definire bene però l'anima è più grande di me ci sono un sacco di cose che la mia anima fa è che io in quanto essere cosciente poi sapete noi siamo anche un po' misteri a noi stessi perché me l'ha detto tenere amata mi ha fatto riflettere perché qualcuno io aveva mai riflettuto che quando corro e mi si alza il battito cardiaco questa è un'operazione presieduta dall'anima andate da chiedere a quegli sciocchi degli scientisti con l'H di adesso che cominciano a che spiegano tutto col caso con i circuiti e con i meccanismi no? o ci sarebbe mai venuto in mente che i botti di capodanno sono un istinto sono un preistinto sono un istinto della gloria futura siccome in paradiso le esplosioni saranno godimenti immensi sento questa attrazione verso il botto come strumento di espressione di una gioia e guardate che tutti quelli che fanno i botti non gli passa manco per l'anticamera del cervello sicuramente ricordo sicuro quindi molte cose che noi non sappiamo e che le facciamo mossi da questo istinto perché la nostra anima le sa queste cose stava fatta per il cielo viene dal cielo ed è stata fatta per il cielo quindi il suo desiderio è cosciente della futura grandezza fisica allora la tenera amata continua sarebbe bene dunque che cominci a considerare che il tuo organismo sarà capace di crescere enormemente in cielo possiamo diventare diventi piccoli giganti o di farsi molto piccolo ma senza bisogno di trampoline di compressori ogni tanto tenera amata fa un po' ridere ci riuscirai col tuo proprio potere di glorificata amici abbiamo i superpoteri non è un modo di dire è un modo di scherzare perché partecipiamo dei poteri divini i glorificati sono dei piccoli dei e così vedrai che in cielo noi glorificati condividiamo i doni e i poteri che ci ha dato il nostro Dio è la piena realizzazione dell'amore di carità nella comunione dei santi allora Riccardo obietta mi dispiace non aver partecipato con te a queste meravigliose avventure e tenera amata e dice e perché no certo che prenderei parte delle mie esperienze celesti così come tu mi inviterai alle tue e sentite l'obiezione di Riccardo e poi la risposta che gli ammolla tenera amata ma come ma le tue avventure sono già accadute me le stai raccontando e tenera amata fa ah 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 ahia che cattiva memoria che hai le nozioni del passato presente e futuro sono per la terra non occorrono nel cielo hai già dimenticato la quinta dimensione eternità creata le mie avventure sono accadute in spazi tempi della vita celeste state attenti eh e in questi spazi tempi si conservano archiviate pronte per essere ripetute e perfezionate quante volte vorremmo e Riccardo gli scappa fantastico è certo che è fantastico state capendo quello che gli sta dicendo perché guarda che dice state attenti qui eh cioè lei gli sta raccontando un pochino di cose un po' di avventure vissute dice mi sarebbe piaciuto venirci anche anche a me dice è certo che ci verrai dice ma come faccio a venirci sono solo cioè tu me le racconti come cose che hai già vissuto e lei dice allora tutto quello che stiamo facendo insieme ha capito niente ancora l'incedere dell'istante attuale regolato dal ritmo dell'orologio è proprio di questa dimensione della vita terrena non è proprio dell'eternità creata perché l'eternità creata che si chiama appunto creata perché non è quella della santissima trinità che è eterna ma è comunque eternità nell'eternità non c'è il passato del presente del futuro c'è solo il presente più di qualche autore ha detto Dio è l'eterno presente vive l'eterno presente ma non è che più di qualche autore l'ha detto lui quando da quando si è presentato perché Dio si è presentato Dio ma come ti chiami what's your name my name is io sono colui che sono che cosa significa io sono l'eterno presente sicuramente anche questo Riccardo è strama fantastico e Teneramata dice il nostro Dio era incantato della mia felicità e mi fece comprendere che la ricetta migliore per che un essere intelligente sia felice consiste nel rendere felici gli altri ma al modo cristiano e con questo ci facciamo al capitolo 30 vorrei farti vedere disse Teneramata la forza con cui si radicano le cattive abitudini terrene e quindi la convenienza di condurre una vita di austerità cristiana stiamo ancora in quaresima e il beneficio che comporta il mortificante e misericordioso purgatore purgatorio dopo la buona morte dice Riccardo è terribile la giustizia divina ma no risponde Teneramata essa è colma di misericordia terribile è il peccato il peccato personale è lo scandalo che contagia e accresce il peccato del mondo quanti scandali adesso oggi terribile è il cumulo di peccati di altri occulti causati dal cattivo esempio delle nostre proprie mancanze morali e più terribile ancora è l'indifferenza dell'uomo dinanzi all'immenso amore con cui lo amma il nostro Dio queste sono le cose veramente terribili e sono perfettamente d'accordo con Teneramata la più terribile è indubbiamente la terza l'indifferenza dell'uomo dinanzi all'immenso amore con cui lo ama il nostro Dio parentesi divina volontà tante volte chi segue chi vuole conoscere chi vuole approfondire la divina volontà si sarà proprio imbattuto io l'ho detto talmente tante volte che ho perso il conto nel fatto che cos'è la vita nella divina volontà la vita nella divina volontà è stare sotto una pioggia battente ininterrotta continua continuata sempre nuova di cosa di amore e amore beatificante retificante quindi che ti rende la vita meravigliosa fin da questa terra ecco perché si dice no che vivere nella divina volontà come in cielo così in terra e che la vita nella divina volontà è un ripristino dell'Eden è un recuperare il paradiso perduto questo è proseguo tenera amata ad altronde non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia adesso attenzione a questo a questo passaggio perché specialmente di questi tempi che rende giustizia e ammonisce dai distorti concetti di misericordia o dalle immagini di quel dio bonaccione che sono immagini che servono soltanto a popolare ancora di più di quanto già è sovrappopolato l'inferno cominciamo subito a evidenziare non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia ci sono i termini cosa diceva padre Pio quando qualcuno la combinava grossa andate a leggere quelle poche cose quegli aneddoti perché padre Pio non ha lasciato opere compiute non ha scritto opere ma sappiamo io per esempio per tanti anni ho scritto in una videovista che si chiama il settimanale di padre Pio non è un mistero lo sanno tutti ecco e lì siccome chi ha fondato quella rivista è stato ha conosciuto padre Pio e l'entourage di padre Pio e anche altri sacerdoti che hanno avuto a che fare con lui loro hanno raccolto tutta quanto una montagna di aforismi di aneddoti reali però risalenti al padre Pio storico quindi l'hanno sentita gli eseggeti oggi le chiamano l'ipsissima verba di Gesù quindi proprio le riferiscono le stesse parole quando qualcuno gliela diceva grossa in confessionale dice la paghi cara la paghi cara non vuol dire necessariamente che non c'è la soluzione la soluzione c'è ma la soluzione rimette la colpa amici cari non rimette i debiti con la divina giustizia che significa questo discorso te lo dico io che significa basta che uno studia bene l'atto di dolore l'atto di dolore non va moncato come fanno adesso sapete quanta gente mi tolgono tutto il cuore dei miei peccati perché peccando ho offeso te c'è subito il jumping io lo chiamo ho meritato i tuoi castighi dove sta qualcuno dice che questa cosa bisogna toglierla che 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 meritati i castighi ma che 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 ma che cos'è questa roba qua l'assicuro che più di qualcuno pensa questo i peccati meritano i castighi cioè la divina giustizia deve essere soddisfatta deve essere ok in questa terra i castighi hanno più scopo medicinale che retributivo cioè hanno lo scopo di favorire la conversione l'emenda del colpevole io ricordo quando studiavo diritto penale c'era un professore che era terribile alla Sapienza di Roma c'erano le due grandi teorie e dice perché la comunità la collettività voi sapete per i reati commessi viene combinata una pena in nome del popolo italiano dice quella pena perché una persona ha ucciso una persona codice penale che se non ricordo a memoria deve essere condannato alla reclusione per non meno di 26 anni omicidio volontario c'è scritto proprio con il codice penale questi 26 anni di galera perché vengono combinati per soddisfare la giustizia cioè hai fatto una cosa brutta la giusta pena per questa cosa qui cioè la soddisfazione che tu devi dare come espiazione della colpa la devi pagare sono 26 anni di galera oppure questi 26 anni di galera si servono a fare pensi capito quindi pensi non è soltanto un'espiazione è un pensiero in modo tale che quando esci da questa sosta ti guarderai bene da fare un altro di omicidio quindi la pena come strumento per il recupero del colpevole ora i castigli terreni a quanto pare sono fondamentalmente finalizzati della conversione si legge una lettera agli ebbei è per la vostra correzione che voi soffrite Dio vi tratta come figli e non come bastardi questo è il termine greco originale anche se poi edulcorata anche nella tua nuova traduzione c'è dice come illegittimi no il termine greco è bastardo ok brutale quale figlio non è corretto dal padre ora un padre corregge un figlio per aiutarlo a correggersi appunto la correzione quindi il castigo correzione quindi il castigo emendativo oh ma nell'altra parte sia che si va in purgatorio sia che si va all'inferno quelli non sono castigli emendativi quelli sono castigli retributivi retribuzione la soddisfazione la soddisfazione della divina giustizia oh ma tra poco noi contempliamo Gesù Cristo sofferente in croce ma perché ha sofferto tutte quelle cose certo uno mi dirà Santa Teresa diceva che bastava una goccia del sangue di Cristo ma certo che bastava una goccia del sangue di Cristo perché per la dignità di quello che lo offre chi perde quella goccia di sangue è il figlio di Dio per cui il valore di una goccia di sangue versata dal figlio di Dio vale più di tutto quanto l'universo creato in se stessa però però c'è un però che i peccati erano commesi gli uomini e che lui è vero uomo e che è il redentore universale quindi come disse a suo tempo il profeta Isaia e lo sentiremo il venerdì santo e anche la domenica delle palme il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui questo per quelli che dicono come esistono i castigli dalle sue piaghe siamo stati guariti ha pagato per noi all'eterno padre il debito di Adamo si canta nel pregonio la notte di Pasqua pagato la redenzione in greco apoliutrosis significa riscatto cioè tu devi sborsare il prezzo del riscatto c'è una persona che è stata sequestrata perché quella persona venga rilasciata devi pagare il riscatto il riscatto con cui cioè il prezzo del riscatto che Gesù ha pagato al padre per noi è tutto quello che contempleremo la domenica prossima che comincia il tempo di passione anche se oggi non si chiama più così fino a Pasqua capito? e noi ci metteremo la nostra parte in quello perché come ho detto infinite volte però ripeto ogni tanto mi arrivano le mail da me fanno domande che capisco che uno non è che può stare a sentire tutto quello che dico ma a volte mi fanno delle domande su una cosa che ho già detto in uno in due in tre in quattro in cinque interventi quindi risponde sulla mail guarda che l'ho già detto tante volte dico ma te lo ridico per mail però ecco la giustizia esiste la giustizia divina non è una invenzione e non dobbiamo avere paura di parlarne è colma di misericordia perché ma esiste allora il prezzo pagato da Gesù per noi ci viene attribuito una sola volta in toto cioè vuol dire che facciamo piazza pulita tu paghi tutti i debiti e ti vengono cancellati tutti i peccati cioè un sacramento che è per questo che si amministra ma vi siete mai chiesti perché professo un solo battesimo per il perdono perché si amministra una volta solo il battesimo e guai a chi dice che si possono fare due battesimi non soltanto perché imprime il carattere i sacramenti che imprimono il cosiddetto carattere quindi il battesimo l'agresimo e l'ordine sacro non si possono ripetere vabbè ma anche perché è impossibile fare due battesimi perché per la stessa persona non ci sono due lavacri full completi uno ce n'è perché Gesù Cristo in croce si è morto una volta sola e quindi per giustizia la partecipazione a questi infiniti meriti una sola volta la puoi avere ecco perché il battesimo è uno ma se ho peccato dopo c'è un altro sacramento che è la penitenza e qual è la differenza ma anche la penitenza serve rimettere i peccati sì i peccati attuali non quello originale ma il battesimo rimette anche i peccati attuali se uno viene battezzato a 30 anni voi pensate che quando una persona viene battezzata a 30 anni che fa? sì scolo il battesimo deve avere il peccato originale perché dopo il battesimo si fa anche la comunione non la cresima che fai? scolo il battesimo deve avere il peccato originale però ti devi confessare prima di essere battezzato perché tutti quegli altri che hai fatti no non ti devi confessare non c'è confessione c'è piazza pulita se tu invece c'è il sacramento della penitenza che viene dopo il battesimo oggi fai ridere le galline perdonatemi il termine ma tu vai a vivere il sacramento della penitenza ce l'ho fatta le catechesi degli anni passati quando il sacramento della penitenza era sacramento della penitenza amministrato dal vescovo con il coinvolgimento della comunità cristiana tutti quelli che si cercano la bocca con la comunità la comunità la comunità andate a vedere come erano i rituali la prima domenica di quaresima davanti a tutti i peccatori venivano rivestiti dell'animo della penitenza dopo gli dicevano adesso voi dovete uscire fuori fate penitenza e quando l'avete fatta rientrate dentro immaginate oggi ma ha cacciato orrore e qui bisogna accogliere tutti date a leggere le testimonianze tutti i super modernisti che stanno sempre a dosannare la chiesa antica perché poi è venuto l'orribile concilio di Trento che ha oscurato la chiesa ma danno a vedere vogliamo rifare anche questo o vogliamo soltanto rimettere la comunione in mano perché San Cirilo di Gerusalemme dice a mettere le mani a forma di trono poi bisogna vedere come vabbè facciamolo tutto facciamolo no? ripristiniamo la penitenza come era nel quinto secolo poi vediamo se non ti passa la voglia dei fai peccati ti passa proprio la voglia dei fai peccati perché prima che ti becchi la soluzione vai a vedere le penitenze che davano io ci ho fatto qualche ciclo di catechesi quando ero un po' più cattivello e qualche numero l'ho dato poi ho dovuto moderarmi un po' perché la gente si sente male ma i numeri sono quelli sono allora non è possibile la glorificazione dell'uomo senza aver prima soddisfatto la divina giustizia l'altissimo ci ama infinitamente questo non è in discussione ma rettamente mai si comporta come un compare pacioccone compare pacioccone che chiude un occhio a certe cose sapete quante volte noi poveri preti quando le cose non si possono fare ma dai padre ma chiuda un occhio non sia troppo rigido no in cielo non tollera la più piccola macchia o vestigio di peccato non si entra in cielo neanche con una minima imperfezione non espiata non si va in cielo sia di commissione piccola macchia o vestigio di peccato sia di commissione che di omissione perché è tutto incompatibile con la purezza divina pensate a certi funerali o altre espressioni ho detto infinite volte che mi fanno venire mi fanno venire i nervi tranquilli cioè non voglio andare a fare i peccati di ira però mi vengono i nervi tranquilli mio padre è volato in cielo urca è volato in cielo ma volato in cielo veramente l'hanno scritto della morte della sorella di San Benedetto che veramente quando è morta hanno visto la sua anima che schizzava e volava verso il cielo ma quella era una santa però volare verso il cielo è espressione che si usa per un santo pubblicamente acclamato come tale a furor di popolo mi raccomando a questo funerale non facciamo canti mortori perché il funerale è una festa perché questo è entrato in paradiso e quindi non ammorbamolo con i canti mortori ma davvero e chi te l'ha detto che è entrato in paradiso scusa che c'è il filo diretto col Padre Eterno o il giudizio particolare c'è avuto una delica l'hai fatto tu ma poi la gente sente queste cose perché la colpa che è certamente la colpa principale è la nostra è proprio a forza che che si forma delle idee completamente stramparate ora non si tratta proseguo la lettura di capricci dell'altissimo l'uomo glorificato si trova in un rapporto interpersonale libero con il Signore sarebbe dunque un ostacolo anche la più piccola particella di male morale non ci può stare da ciò la necessità della purificazione dopo la buona morte e se l'uomo non è stato un perfetto cristiano in questa vita ho la necessità di imparare il buon comportamento proprio della patria che qui era le virtù cristiane non hai imparato a comportarti decentemente in questo mondo e ti impari in purgatorio se no in paradiso non ci entri Riccardo dice è molto duro tutto questo e te ne rammata risponde no quello che succede è che sei molto tollerante dimmi un po' ma provate a pensarci anche voi perché molte volte io detesto stasera mi sto confessando un po' eh quindi detesto i discorsi qualunquisti a frasi fatte detestabili proprio perché se noi evitassimo di fare questi questi discorsi sciocchi e cercassimo di riflettere un po' ci eviteremmo di dire e pensare troppe stupidaggini ti cosa dice te te ne rammata per far capire questa cosa a Riccardo quello che succede è che sei molto tollerante ti piacerebbe forse che i tuoi parenti e amici conservassero nella gloria eterna del cielo i loro difetti i cattivi ambiti impurità e impietà modi mondani vi è mai capitato credo che ci capiti tutti i giorni sicuramente capiterà anche chi sta a contatto con me certo per certo di dire sì questa è una bella persona però purtroppo c'è sto difetto c'è stato un difetto quando appare un nostro difetto si manifesta diventiamo più brutti la nostra presenza non è più così tanto gradevole e piacevole è così perché il difetto è una cosa brutta brutta un cuore cioè io quando vedo che ne so qualche difetto nelle persone che con cui sono a contatto che si vede io lo vedo proprio come la persona diventa brutta siccome un sacerdote è capace spero di vedere anche la bellezza profonda delle persone ma tu guarda che peccato cioè quando si proprende da questo difetto guarda che brutta che diventa sta persona cioè si vede proprio con gli occhi ma ti pare che questa cosa cioè se fosse una cosa in paradiso di questo genere ma come fa ad esistere la beatitudine imperturbabile se quella persona manifesta quel difetto farà stramare il prossimo perché scoccia disturba rompe o no le persone a cui vediamo bene in paradiso sono soltanto belle e senza difetti se no che ce l'abbiamo a fare in paradiso è chiaro che il nostro dio aggiunge subito ha perdonato loro tutta quanta la colpa e gli ha rimesso la pena eterna che insomma non è poco essendo morti è stato di grazia ma alcuni di essi conservano la radice delle cattive abitudini che non sono riusciti a vincere nella vita mortale ecco perché sarebbe tanto importante che noi tante cose riuscissimo a spaccarle a liberarcene ora perché se non te ne liberi ora poi dovrai soffrire il purgatorio ogni tanto mi scappa di cosa figlio mio figlio mio tanto purgatorio che te farai se non la pianti mi scappa proprio come come perché la verità perché cioè dove vai ma me lo dico pure a me me lo dico per tante questioni che capite dico falla finita perché se no voglia purgatorio è un'oggiunzione universale alcuni di essi conservano la radice delle cattive abitudini che non sono riuscite a vincere nella vita mortale la zavorra dei danni ingiusti che non fecero in tempo a riparare e che ancora non sono restaurati negli spazi tempi del passato e quindi sono conservati nella quinta dimensione tutti i danni che abbiamo fatto nella vita o li ripariamo adesso questo sta dicendo te ne l'amata oppure durante il purgatorio negli spazi tempi della quinta dimensione per esempio abbiamo offeso qualcuno andiamo a chiedere perdono gli abbiamo fatto una grossa quanto una casa gli andiamo a chiedere perdono meglio che lo fai adesso perché se lo fai adesso c'è anche il merito dell'umiliazione quindi di aver praticato l'umiltà di esserti annientato di aver rinegato te stesso se non lo fai adesso lo farai finita la vita terrena cioè tu un purgatorio dici ma Dio rispetta la libertà certo la libertà ce la dà fino a quando non finisce la vita terrena dopodiché stop perché il purgatorio ti resta punto e basta se finisci dannato tu gli resti punto e basta no io sono libero me ne esco dal purgatorio ma prova ci riesci prova ah io sono libero me ne esco dall'inferno prova l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro è questa a cui guardate l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro trascuratezza religiosa io ho una pena lo dico pubblicamente lo dico e se qualcuno lo sente nei miei parrocchiani magari la trascuratezza religiosa che io vedo in giro spaventosa cioè non è la che si sai è meglio vedere cioè capitemi no era meglio vedere gli atei comunisti quelli che ti vogliono morto quelli che ti combattono o gli illuministi amici dei Volterre e di Robespierre o i massoni ma vedere proprio cioè non me ne proprio cioè non non è proprio non ci penso proprio non non me non me proprio lambisce il pensiero zero e dice eh ma io non lo sapevo che Dio muore così tanto bene dico è fietto bello e se non vai al funerale manco di un familiare cioè se manco là ti ricordi di mettere più in chiesa ma come fai a scoprire l'amore di Dio è una cosa gravissima questa qui l'ignoranza per trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro non scoprire l'amore dell'altissimo verso di noi è colpa perché l'amore dell'altissimo verso di noi c'è e la mancanza di corrispondenza adeguata a quell'amore è supremo voglio vedere quanti io sono sacerdote quindi confesso si vanno a confessare con la prima cosa il primo comandamento io me lo sono messo sotto i piedi cioè io dovrei amare Dio con tutto il cuore con tutta la mente con tutte le forze ma non l'ho proprio calcolato altro che amarlo con tutto il cuore zero e la prima cosa che noi dovremmo sempre farci l'esame di coscienza se abbiamo avuto la grazia di vivere fondamentalmente in grazia e di più o meno camminare bene tutto il cuore tutta la mente tutte le forze è il primo comandamento Dio lo vuole che sia che sia osservato l'ignoranza e la trascuratezza religiosa del grande amore dell'altissimo verso di loro e la mancanza di corrispondenza adeguata a quell'amore supremo e nessuno può dire che non lo so io faccio sempre le prediche durante la settimana santa il venerdì santa dico sempre le stesse cose dico ma che non lo sapevo quanto mi ama nostro signore dico senti aspe aspe se tu mi parli di qualche foresta tropicale non so che nella mia fantasia non conosco tutto il mondo cioè di un posto dove il cristianesimo non è arrivato non sanno neanche che cos'è un crocifisso passi ma tu non hai mai visto un crocifisso l'hai visto un crocifisso o no e ti devi fare semplicemente due domande dinanzi al crocifisso chi è quello che sta in croce chi è è il tuo dio in Italia quasi tutti quelli che si fanno questa domanda sono stati battezzati nel nome di quello che sta in croce e la seconda ma perché è andata in croce perché sono domande che non possiamo non farci perché non farceli è peccato se sentite quante prediche ho fatto su questi argomenti è peccato non puoi venirmi a dire ma io non conoscevo l'amore di Dio non lo conoscevi non lo conoscevi non hai visto il crocifisso in vita tua eh ma che che fa ma non ci stava a pensare non ci stava a pensare noi diciamo una cosa noi diciamo una cosa da fuori di testa che il crocifisso è Dio quello che sta croce è Dio e che è andato lì per colpa tua per colpa tua immaginate la mentalità di oggi nessuno si può sentire colpevole di nulla guai senza azzardi di dire qualcosa che tu lo traumatizzi la persona cioè la persona deve essere rispettata deve essere attrattata che fai? la fai sentire in colpa? ci dobbiamo sentire in colpa come? noi siamo responsabili della morte del figlio di Dio noi quindi l'ignoranza del grande amore dell'altissimo e la mancata corrispondenza adeguata a quell'amore supremo primo comandamento di conseguenza di conseguenza hanno bisogno di subire il giusto castigo giusto castigo per compensare i loro peccati compensare ormai perdonati riguardo alla colpa e alla pena eterna hanno bisogno di rettificare la loro indifferenza terrena verso le cose del cielo e di trovare il proprio posto preciso nella patria hanno bisogno di imparare le abitudini le abitudini e di fare e di fare al modo dell'aldilà le restituzioni di ciò che hanno derubato e questi non sono solo i soldi chi ruba l'onore chi dice peste e corna di qualcuno dietro io su questo mi si perdoni la debolezza ma ho certi conti aperti per tutto quello che è stato detto pensato e divulgato del sottoscritto a ogni piedi a ogni piedi porta io abbono tutto già il Signore lo sa ma a quanto pare il nostro Signore nonostante gli abboni voglia che certe cose siano riparate per istituzione di ciò che hanno derubato non si può rubare a una persona l'onore la buona fama l'onorabilità appunto la la stima sulla base di sentiti dire o di prime impressioni o di chiacchiere da da piazza o da barra no? però o a riguardo sto chiamando un tuo amico di infanzia Maurizio che attualmente è un beato in cielo perché parli con te però Maurizio lo conosceranno la settimana prossima perché il tempo a nostra disposizione è scaduto e quindi ci aggiorniamo se Dio vuole a venerdì prossimo venerdì della settimana di passione tempo più santo dell'anno che vi auguro di vivere già da adesso con la massima intensità possibile bene ci salutiamo per tanto e ci aggiorniamo e che Dio vi benedica che la Santa Vergine sempre vi protegga grazie a tutti